Allora, questo weekend, venerdì, sabato e domenica, si terrà in Val D'Arno il quattordicesimo motoraduno delle manette del Val D'Arno. Troverete tutte le info su lemanette.it, cioè sia il programma e i moduli di prescrizione. Brevemente come funziona il motoraduno. Venerdì sera, presso il Camping Orlando, faremo la cena di apertura, un benvenuto. Dopodiché, la domenica mattina, per tutti quelli che vogliono partecipare, che dovranno necessariamente iscriversi sul sito web prima, ci ritroveremo tutti a Terranova Bracciolini, in piazza centrale, faremo colazione presso il braccio centrale e poi, una volta fatta colazione alle 9.30, partiremo tutti in massa e arriveremo su al Parco di Caviglia. Faremo un bellissimo giro nelle zone del Chianti Senese e Fiorentino, fino ad arrivare a Gambassi Terme, quindi arriveremo a Volterra, Gambassi Terme, dopodiché ritorneremo e faremo un bellissimo giro di rientro, fino a tornare a Radda, dove ci sarà il rompete le righe, perché chi torna al campeggio è invece chi torna poi a casa. Il sabato sera faremo una grande festa, sempre al Camping Orlando, aperta a tutti, soci, non soci, amici, gente che viene in moto, gente che guarda le moto e via via. La domenica mattina ci sarà il mototour dell'amicizia, da partire dalle 8.30 ci troverete in piazza a Cavura, a San Giovanni Valdarno, quindi ci saranno tutte le moto, potrete fare foto, potrete stare con noi, se volete venire ad accompagnarci per un po' di chilometri, se volete iscrivervi. Partiremo da piazza Cavur, faremo un giro, andremo verso Caviglia, andremo a Gaiole, poi saliremo su a Castagnoli, riscenderemo giù da Nusenna, Mercatale, da Mercatale ritorneremo a Montevarchi, quindi anche i cittadini di Montevarchi vedranno attraversarsi la loro cittadina dal cordone delle Manette, verso le 11. Poi andremo verso Terranova, da Terranova poi saliremo su a Lorociuffenna e faremo la Sette Ponti fino al piccolo paesino di Pullicciano, sopra Castelfranco di sopra. A Pullicciano ci accoglieranno il circolo e tutta la comunità, ci hanno organizzato un mega aperitivo, quindi fermeremo le moto, parcheggeremo, scenderemo e ci rifocilleremo in questo piccolo aperitivo, piccolo per modo di dire, con tutti gli abitanti di Pullicciano. Finito quello scenderemo giù a Faelle, grazie alla storica collaborazione con l'estate faellese, faremo la nostra festa finale, pranzo tutti insieme per concludere questa tre giorni di moto. Tutto il ricavato sarà totalmente devoluto in beneficenza ad associazioni del territorio e vi aspettiamo.